Posso essere solo un grande tifoso di questo club, perché averne fatto parte è veramente tanta tanta roba. Benvenuti a MTV, siamo a casa mia! Scherzo, siamo all'ITE HQ! Abbiamo la patch del mondiale per club centrale, abbiamo uno scudettino della Coppa Italia e lo scudettino del campionato italiano, e poi c'è il nostro logo. Guarda cosa ti faccio vedere, eccola, Coppa UEFA del 98. Dopo una semifinale vinta col Barcellone, in uno o meno, con Eto'o che fa il difensore. È stata una serata che tutti noi ci ricordiamo, insomma, avere qui il pallone della finale accanto a te, a MTV, è proprio... Il sogno di chi piace giocare a calcio, chi ha passione per il calcio, penso è veramente giocare a San Siro. Io ho avuto la fortuna di essere stato lì dentro, ha dato delle emozioni incredibili. Posso essere solo un grande tifoso di questo club perché averne fatto parte è veramente tanta tanta roba.